Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Sta per arrivare nelle case di tutti gli abbonati il numero di novembre di Radici Cristiane. Nell'editoriale il direttore, professor Roberto De Mattei, si chiede per quali ragioni sul temere l'aborto i vescovi tacciano. Con due atti recenti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha reso l'aborto più facile, lo ha esteso alle minorenni, lo ha sottratto al giudizio morale, privatizzandolo e lasciandolo alla coscienza fragile di chi non ha ancora chiara la percezione del male. Perché, in merito, la voce della conferenza episcopale si è levata in modo a dir poco flebile, per non dire inesistente. In attualità, si analizza la grammatica arcobaleno che si ripropone di dominare le coscienze attraverso il linguaggio. Tratto comune di tutte le ideologie, compresa la gender theory, infatti, è quello di creare una realtà inesistente anche con l'ausilio di nuovi termini, di un nuovo vocabolario. Ecco così la produzione di un'antilingua, neologismo inventato da Italo Calvino, o di una neolingua, come scrisse Orwell. Vi sono sintomi di rivoluzione nel mondo, una rivoluzione polimorfa e violenta, nei tanti troppi paesi vittime del comunismo e anche nei tanti troppi paesi vittime dell'Islam, ma non solo. Avviene anche laddove ci si illuda di vivere in uno stato di diritto, come in Europa, dove rispuntano antichi estremismi e negli Stati Uniti scossi da abusi, discriminazioni e violenze di matrice neomarxista. Sull'emergenza Covid vi sono precise responsabilità da parte dell'OMS, come spiega l'ambasciatore di Taiwan, Singh Ying Li. In un'intervista invece il professor Joseph Stritto punta il dito e accusa la Cina, la pandemia non ha alcuna origine naturale, ma è stata confezionata in laboratorio a Wuhan. E aggiunge, attenzione alle guerre biologiche, basta un dollaro per distruggere un chilometro quadrato di territorio contro i 2000 dalle armi convenzionali, i 900 di quelle nucleari e i 600 di quelle chimiche. Il dossier ricorda i 400 anni dalla battaglia della Montagna Bianca, avvenuta nei prezzi di Praga, battaglia di grande valore simbolico. Segnò l'importante vittoria alla Lega Cattolica, al grido di Santa Maria, sulla Confederazione Boema, protestante. In molti attribuirono il trionfo all'intervento di padre Domenico di Gesù Maria, carmelitano, ritenuto santo già quando era in vita, vero sprone spirituale per l'esercito. Di certo, una viva devozione si sviluppò attorno alla statua di Gesù Bambino, donata dalla principessa bodissena Lobcovitz ai padri carmelitani della chiesa di Santa Maria della Vittoria a Praga. Anche quando i religiosi vennero scacciati dal santuario, tale devozione si mantenne in tutte le case dell'ordine e nel mondo cattolico intero, sinché il testimone non venne raccolto dai carmelitani di Arenzano, mentre nell'attuale chiesa di Roma, sempre intitolata Santa Maria della Vittoria, venne collocata nel 1620 l'immagine miracolosa della Natività, immagine cui venne attribuito un ispirato successo militare e ancora oggi sicuro punto di approdo per la fede e per le preghiere di molti. Il cardinal Raymond Leo Burke individua la fonte della nostra gioia e della nostra pace nel seguire Cristo sulla via della croce, ogni giorno e in ogni istante. La certezza della venuta finale di Cristo non ci terrorizza, ma piuttosto ci ispira a prepararci ad essa ogni giorno. In religione si parla di Santa Scorese, la 23enne uccisa il 15 marzo 1991 con 13 coltellate da un folle invaghitosi di lei, ma non ricambiato. La giovane infatti non voleva altro che appartenere a Dio, consacrarsi a Lui, unico fine della sua vita. Per questo la cura arcivescovile di Bari ne avviò presso il processo di beatificazione. Ora la documentazione è l'esame della congregazione per le cause dei Santi. In Storia, la rivista Radici Cristenne racconta le vicende militari umane di Carlo Antonio Gastaldi, un piemontese che aderì al brigantaggio meridionale, surto in epoca risorgimentale come l'autentica insurrezione politica, finalizzata a restituire il regno di Napoli al suo legittimo sovrano. Tesori d'Italia presenta San Falco di Palena, luogo di chiese di Santi, di preghiere e di remitaggi. Qui giunse però San Falco, i cui resti riposano nella chiesa a lui intitolata. La sua popolarità è ancora oggi legata alla sua fama di esorcista e ai vari miracoli compiuti. Ma qui ebbero in Natale anche la beata Florisenda e San Nicolò. Passarono o soggiornarono Sant'Antonino Martire, San Domenico Abate, San Francesco d'Assisi, San Pietro d'Amborrone, più noto come Papa Celestino V, una terra insomma imbevuta di profonda fede. In Arte e letture si presenta il San Giovanni Battista di Tiziano Veceglio, realizzato per la chiesa di Santa Maria Maggiore a Venezia. Pienamente romano e corpo statuario ed eroico del protagonista, dichiaratamente modellato sull'esempio delle statue antiche, come l'Apollo del Belvedere, Fiore all'Occhiello e la collezione dei Papi in Vaticano. Ma il riferimento è anche ad artisti come Michelangelo, di cui Tiziano richiama il Cristo Redentore. In un altro interessante articolo si parla del Tabernacolo, indica la piccola dimora di Dio presso gli uomini, dimora che nel secolo è mutata notevolmente, si passa dal pasto forio, una vera e propria stanza dedicata all'apisside, dal tabernacolo a muro a quello sospeso, da quello pensile a quello murato, modi diversi con la medesima funzione di custodia eucaristica. La musica per il servizio divino, doppio concilio Vaticano II, ha conosciuto una crisi da cui non riesce ancora ad uscire, non che manchino ancora oggi validi compositori in grado di contribuire al tesoro della chiesa, da conservare e da promuovere, occorre però avere il coraggio di osare per mostrare la vitalità e la tradizione, che non è nel passato ma nell'eterno, ad affermarlo è in un'intervista il maestro Aurelio Porfiri. Chiudono la rivista le consuette rubriche, ovvero le news, l'arte racconta, le letture consigliate e i lettori ci scrivono. Per informazioni e abbonamenti www.radicicristiane.it Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. www.radicicristiane.it